Allora, possiamo riprendere. Riprendiamo iniziando appunto l'ultimo macro argomento di cui ci occuperemo. L'abbiamo lasciato per ultimo perché è più facile degli altri, sicuramente è più facile la ricorsione ma anche dei grafi, ma ci dà un approccio un pochino diverso all'affrontare alcuni tipi di problemi, in particolare i problemi che hanno a che fare con l'evoluzione temporale dei sistemi. Cioè la ricorsione, i grafi, eccetera, sono tutti belli. Quando io riesco a fotografare un problema, dico il problema è questo e lo cerco di risolvere chiaramente un'istanza del problema che non cambia. Però se ho qualcosa che evolve nel tempo diventa più complicato avere un algoritmo che in qualche modo insegua il passare del tempo. Dipende dai casi, però qui vogliamo lavorare un pochino insieme su degli strumenti che permettono magari non di trovare la soluzione esatta perché il problema magari è troppo complesso da risolvere o i vincoli sono talmente tanti che non si riescono a formalizzare tutti o esprimere tutti correttamente. E allora quello che si fa è che si fa delle prove, anche empiricamente. Allora vediamo se faccio così cosa succede? No, non mi piace. Allora provo a sforzare qualche cosa? No, allora lo risistemo, eccetera, eccetera. E quindi avere in mano uno strumento che non sia il bottone, l'algoritmico in cui io premo il bottone e limita la soluzione, punto. Girando magari un'ora, due ore, una settimana. Ma uno strumento che mi permetta di simulare l'effetto di alcune scelte, quindi simulare dei scenari. Se io faccio così qual è l'impatto? Se io, che ne so, decidessi di aggiungere le lezioni anche dalle sette di sera fino alle otto e mezza qual è l'impatto sull'occupazione delle aule, sull'umore delle persone è facile da prevederlo, ma su una serie di, diciamo così, fattori quantitativi che posso misurare e posso valutare. Quindi ovviamente ha senso valutarlo prima di metterle in campo una modifica di questo genere o una qualunque tipo di modifica. Allora, lo posso valutare se riesco in modo esatto, con un modello matematico, con un modello algoritmico, mi trovi fuori esattamente il risultato. Se non riesco, perché è troppo complesso, posso semplicemente testare, appunto, simulando cosiddetto what if, diverse possibili opzioni. Qui c'è una definizione che dice che simulare di fatto significa costruire un modello di un sistema reale e fare esperimenti con questo modello che ci permettono di capire meglio quale potrebbe essere il comportamento del sistema reale, soprattutto per valutare varie strategie possibili con le quali abbiamo intenzione di agire sul sistema reale, in generale. Quindi se uno deve costruire, che ne so, un ponte, un'autovettura, un pezzo meccanico, prima di mandarlo in fonderia, prima di mandare, diciamo così, le betoniere a buttare il cemento armato, simula il suo comportamento secondo una certa serie di scenari possibili. In quel caso è un problema molto più formalizzato. Devo stare secondo certe specifiche di peso, robustezza, resistenza, eccetera, eccetera. Nel campo vostro del management i problemi sono sempre molto più articolati, sfuggenti, non direttamente formalizzabili con dei numeri secchi, sì, no, accettabili, non accettabili. E quindi siamo degli strumenti che possono aiutare, diciamo così, il progettista, il manager, a valutare le conseguenze e non decidere, ma sì, facciamo così perché sono convinto che vada bene. Non sempre di fidare delle persone che hanno troppe convinzioni. Ma facciamo così perché ho provato, ho simulato due o tre scenari possibili e questo mi pare che dia risultati migliori. È chiaro che una simulazione è comunque sempre fatta su un modello e il modello non rappresenta mai la realtà ma solamente una sua approssimazione. Quindi la bontà del risultato, della decisione che prendo, dipenderà ovviamente dall'accuratezza del modello. Quindi in certo senso questi sistemi non sono pensati per dare una risposta, ma per dare la capacità rapidamente di valutare gli effetti di vari scenari. Ne dico una, il tempo di caricamento di un aereo. Il fatto che varie compagnie aeree usano strategie diverse. Alcune chiamano le persone, le fanno salire nell'ordine che vogliono. Altre chiamano le persone a gruppi. Quelli delle ultime file, quelle del file di mezzo, quelle del file davanti eccetera eccetera. Con l'idea di riempire l'aereo in un certo ordine e evitare che le persone si debbano scavalcare l'una all'altra. Altre compagnie invece non ti danno il posto a sedere. Quindi entri, ti arrangi, ma il primo posto che trovi è il tuo, ti puoi sedere eccetera. Quale di queste strategie è migliore? Eh, bisogna valutare, bisogna provarlo. Adesso in quel caso magari si può anche sperimentare, però tenete presente che il tempo di fermo negli aerei è uno dei fattori di costo maggiore. Quanti minuti sta fermo tra un atterraggio e un decollo. E quindi si può pensare, uno ha delle idee, ah sì domani ho pensato che faccio salire prima quelle di sinistra e poi quelle di destra. Magari ti viene questa idea, magari è un'idea geniale, magari no, come faccio valutare rispetto al metodo che ho già adesso. E quindi in questo scopo possono tornare utili questi sistemi di simulazioni, la cui complessità ovviamente è la costruzione del modello e di un modello adatto. Poi, dopodiché è l'utente che usa lo simulatore, che poi deciderà lui fare vari scenari, varie valutazioni, varie prove e poi decide, secondo me è quella più adatta a questa, ma perlomeno ha un minimo di rassicurazione. Sono cose che magari si fanno anche in Excel, anche semplicemente a volte, no? Ti fai un modellino in Excel con quale formula, cambi i parametri, vedi come cambia il risultato e non hai uno strumento che ti dice quali sono i valori ottimali dei parametri così, di botto. Perché magari sono troppi e sono troppo complicati interracciati tra di loro, quindi algoritmicamente non riesci a tirarlo fuori. Però conosci meglio il sistema vedendo come si comporta, no? Modificando alcuni dei parametri. Quindi, partendo da Excel in avanti ci sono già degli strumenti che possono permetterci di fare queste cose. Noi proviamo a studiare, no? Come si possa scrivere un simulatore fatto da noi in Java, quindi più calato ovviamente, più su misura rispetto alle nostre necessità, per una categoria abbastanza definita e limitata di sistemi. No? Cioè, non andiamo a fare la simulazione di dove vanno a disperdersi le polveri dopo un'esplosione. Quello richiederebbe tutta una serie di modelli che sono anche di propagazione dell'atmosfera, eccetera, tutta una serie di calcoli che dipendono proprio dal modello di gas, eccetera. Oppure il modello di deformazione di un pezzo meccanico. Quello richiede anche lì modelli di calcolo, elementi finiti che, diciamo, contengono le equazioni, no? Legate alle caratteristiche del materiale. Rimanendo più sul piano, diciamo così, gestionale, ragioniamo più invece su simulazioni che non coinvolgono fenomeni fisici, no? Ma fenomeni descrittivi, in un certo senso. In ogni caso, quindi cercheremo di qualificare che tipo di sistemi possiamo simulare. Le simulazioni possono essere di diverso tipo. Ad esempio, simulazione deterministica o stocastica. Cioè, quando io simulo uno scenario, l'evoluzione di questo scenario è sempre uguale a se stessa o può dipendere da variabili stoccastiche, variabili randomiche, alleatorie. stocasticità può essere nel modello stesso, in cui dico, vabbè, modelliamo una flotta di mezzi che deve trasportare i beni in varie città. Bene. E questo è un modello deterministico. Però io posso dire, però ho una probabilità su mille che un mezzo buchi una gomma. Allora, se io ripeto la simulazione più volte, ci saranno alcune volte in cui la gomma la buca tizio, altre volte in cui la buca caio, altre volte in cui la buca nessuno. Quindi ogni volta avrò un risultato diverso, perché l'evoluzione del modello, l'evoluzione del sistema dipenderà da variabili alleatorie. Non ho mai la certezza. E quindi diventa anche importante per me capire come risponde, diciamo, complessivamente il sistema, quindi, che non so, alcune metriche che posso definire ad alto livello, tipo il numero di pezzi consegnati in tempo, il numero di consegne mancate, o cose di questo genere, metriche che per me sono significative, come rispondono anche al variare di eventi imprevedibili, o eventi non certi, non noti a priori. O ad esempio posso anche giocare, che non so, la probabilità di bucare a uno su mille, oppure uno su cinquecento, oppure uno su cento. Allora, fino a quando posso aumentare questo rischio mantenendo comunque un buon risultato del mio sistema? Sono giochini da fare. Oppure altre volte l'evoluzione di autorità c'è anche sui dati di ingresso. Se devo modellare, che ne so, domani devo aprire un bar e devo decidere quanti tavolini mettere. Ovviamente dovrò mettere più tavolini quanti più avventori avrò, a seconda dell'orario in cui arrivano, però io non ho la legge esatta che mi dice quando un avventore arriverà al bar, se è da solo, se sono in due, se sono in tre. Allora potrò crearmi una piccola descrizione statistica, un modello di arrivo dell'avventore, che mi dice che in ogni istante di tempo con una certa probabilità arrivano, e quindi il mio input al sistema è esso stesso, non deterministico. Lo ripeto più volte con scenari diversi e vedo quando vado in crisi, quando invece riesco a gestire. Quindi ho molti gradi di libertà, molti gradi di flessibilità. Alcune parti sono note, seguono delle regole fisse, altre parti seguono delle regole che non conosco, che non sono sotto il mio controllo e quindi in qualche modo le modello con un'approssimazione statistica. Il modello può essere statico o dinamico, cioè l'evoluzione del modello può dipendere dal tempo in cui immagino che si svolga. Il modello rappresenta l'evoluzione di un sistema nel tempo, quindi il tempo c'è sempre, la variabile del tempo c'è sempre, però se io lo faccio girare a lunedì e se lo faccio girare a martedì, ma non a lunedì della mia vita, del mio calendario, lunedì simulato, il martedì simulato, o il mattino e il pomeriggio, si comporta in modo diverso? Cioè da qualche parte dentro il modello c'è una nozione esplicita del tempo, dell'ora, del giorno, che cambia il comportamento del sistema? Allora a quel punto, oltre a giocare su tutte le altre variabili, devo anche giocare sul fatto che questa cosa qua la facciamo girare a marzo, vediamo un attimo cosa succederebbe a marzo e che potrebbe essere diverso da cosa succederebbe ad aprile. Questo chiaramente complica un grado di complicazione in più, se ne dobbiamo tenere conto. E poi, distinzione ancora più importante dal punto di vista algoritmico, se il sistema che stiamo modellando è un sistema che lavora nel continuo o nel discreto, in termini di tempo continuo o tempo discreto. Cioè un sistema continuo è un sistema la cui evoluzione avviene su un tempo che è espresso come variabile reale, in cui in ogni istante di tempo io posso chiedermi che cosa sta succedendo e posso vedere il sistema che sta evolvendo in qualche modo. Quindi tutti i sistemi fisici, termodinamici, meccanici, eccetera, eccetera, sono sistemi che si modellano più propriamente come sistemi continui. E infatti la loro risoluzione richiede poi l'integrazione di equazioni, essenzialmente, per trarre dall'equazione e tirare fuori il comportamento. Allora, questo tipo di sistemi continui noi non li trattiamo, non li trattiamo qua, sono sistemi che vanno più verso il calcolo numerico e la modellazione numerica che non, diciamo così, l'algoritmica. A noi interessano invece i sistemi discreti, cioè che si possono descrivere identificando un numero finito di istanti di tempo in cui succede qualcosa e in tutti gli altri istanti di tempo non succede nulla. Il sistema possiamo immaginare che evolva a salti, a gradini. Adesso succede una cosa, il sistema è cambiato, se è successo qualcosa, poi per 10 secondi, un minuto, 6 anni, dipende da cosa stiamo modellando, non succede nulla e poi succede qualche cos'altro in un altro momento. In mezzo tra un evento e l'altro, tra un istante di tempo significativo e l'altro, il sistema è statico, non succede nulla di interessante. Non è detto che sia statico per davvero, ma è statico per quanto noi lo stiamo modellando, cioè per l'approssimazione del nostro modello, per le informazioni che a noi interessa modellare. Che ne so, se io volessi modellare il numero di persone in un luogo, è vero che le persone si spostano continuamente, ma a me interessa solamente l'istante di tempo in cui entra una persona e l'istante di tempo in cui esce una persona. Basta. Sono due eventi, dopodiché, se questa persona è dentro, gira, chiacchiera, salta, si arrampica sul muro, non importa perché per me conta uno. Ai fini del mio modello di occupazione dei locali, conta sempre uno, fino a quando non esce quella stessa persona oppure una persona diversa. Allora, gli istanti significativi in cui succedono delle cose sono discreti, sono identificati sull'asse del tempo con dei punti isolati, finiti. E sono gli unici istanti in cui cambiano le caratteristiche, le variabili del sistema che sono di mio interesse. Poi il fatto che lui si arrampichi sul muro è una cosa stramba, ma non mi interessa e quindi non lo modello, non lo vedo. È una variazione non significativa. Quindi noi ci occupiamo di sistemi discreti di questo genere, che sono quelli, diciamo così, un po' più adatti a descrivere i sistemi gestionali umani. Parliamo quindi di sistemi di simulazione ad eventi discreti. Perché noi chiameremo evento il fatto che in un certo istante di tempo succeda qualche cosa. Entra o esce qualcuno, ad esempio. Allora, in questo caso avremo due tipi di eventi, entra ed esce. Ad un tempo discreto, a certi istanti di tempo discreto, può succedere uno o più eventi, diciamo, in un certo istante di tempo e gli eventi hanno una casistica, una tipologia definita a priori. E il fatto che capita un evento fa sì che lo stato del modello, in qualche modo, cambi in quell'istante lì. Se il mio stato del modello è il numero di persone che sono in un certo locale, quando una persona varca quella soglia, si decrementa il numero di persone che stanno nel corridoio e si incrementa il numero di persone che stanno in questa sala. E quindi lì. Poi, finché la gente gira all'interno della sala o gira all'interno del corridoio, lo stato del sistema, cioè il numero di persone in ciascun locale, rimane costante, non può cambiare. Cambia solo in corrispondenza degli istanti di tempo in cui avviene un evento. Quindi, questo sistema lo possiamo modellare, simulare, attraverso una serie di eventi, una lista di eventi passati o futuri. Se io osservo un sistema reale, allora gli eventi che osservo fanno tutti parte del passato. Man mano che succede qualcosa, lo registro. Ma se sto simulando ciò che potrà succedere, allora gli eventi sono eventi ipotetici futuri, in un futuro simulato. e gli eventi possono essere in qualche modo correlati tra di loro. Allora io posso avere un evento più semplice del tipo ad ogni minuto esatto entra una persona. E quindi so esattamente che al minuto 0 entra una persona, al minuto 1 entra un'altra persona, al minuto 2 entra un'altra persona e così via. Quindi ho un futuro predeterminato. Poi potrò avere un futuro stocastico. In ogni minuto la probabilità che entri una persona è data dal 50%, oppure da un'istribuzione di Poisson che dipende dal numero di persone, da quando è entrata l'ultima persona, eccetera. Ma è un modellino stocastico che ci permette di dire quando ipotizzo che entrerà la prossima persona. Allora anche lì mi posso costruire un futuro che ogni volta che lo costruisco sarà diverso, non sarà sempre uguale, ma rispetterà certe caratteristiche sulla propria distribuzione statistica. Questo lo possiamo dire sugli eventi indipendenti, che arrivano dall'esterno. Ma poi c'è una concatenazione tra i vari eventi. Facendo il solito esempio, tipicamente quando una persona entra in un'aula di lezione ci sta per un'ora e mezza. Oppure si stufa prima, può capitare, oppure è entrato nell'aula sbagliata, allora esce subito. Allora ho varie casistiche. Facendo il caso più semplice, supponiamo che quando una persona entra in un'aula ci sta per un'ora e mezza. Quando una persona entra nel bagno ci sta per due minuti, supponendo che non ci sia ancora. Allora, il fatto di prevedere che ci sia un ingresso, fa sì che il sistema possa prevedere che ci sarà anche un'uscita. Quindi il simulatore deve guardare che cosa succede e simulare le conseguenze degli eventi che vede. Allora, il simulatore, pensiamo al bagno, entra una persona a un certo tempo, allora il simulatore potrà prevedere che questa persona uscirà tra due minuti, oppure tra cinque, oppure tra dieci, in funzione magari di quante persone ci sono in quel locale. Più persone ci sono, più il tempo d'attesa sarà lungo. E quindi in qualche modo, simulando gli eventi esterni che avvengono sul sistema, vengono generate una serie a cascata di eventi successivi. Quando entro qua, io prevedo, sulla base di un modello che mi faccio, quando potrà uscire. E così via. E quindi il sistema va avanti e simulare questo scenario, fino a quando chiaramente non darò delle nuove, delle condizioni di terminazione. Quindi normalmente parliamo di elaborazione di un evento, processing di un evento, cioè quando il sistema dice, ok, adesso consideriamo il fatto che questa persona sta entrando in questo locale. Quali sono le sue conseguenze? Le conseguenze sono, uno, il cambio dello stato del sistema, dei numerini dei conteggi. Due, la schedulazione, la previsione di ulteriori eventi in conseguenza di questo. Che sono ciò che fa autoalimentare il sistema, in certo senso. Questi eventi schedulati, ma anche quelli inseriti dall'esterno, sono eventi che ovviamente sono temporizzati. Ma ciascuno ha una sua marcatura temporale, un istante di tempo in cui mi interessa considerarlo. E ovviamente perché la simulazione abbia causalità, non vada indietro nel tempo, questi eventi dovranno essere sempre considerati in ordine di tempo. Quindi ad ogni istante di tempo mi devo chiedere, ok, io ho finito di elaborare questo evento, che era marcato alle 17.49. Qual è il prossimo evento, il primo evento schedulato nel futuro? Successivo ovviamente alle 17.49. Quindi mi interessa ogni volta sapere qual è il prossimo evento da simulare. Quindi ogni volta che elaboro degli eventi, butterò, creerò nuovi eventi futuri, ma gli eventi alla fine poi li estraggo, li elaboro, li considero uno per volta, in ordine di tempo, di tempo simulato chiaramente. E per questo scopo chiaramente si usano le code prioritarie che abbiamo visto la settimana scorsa. che è una lista in cui aggiungo, aggiungo, aggiungo eventi, man mano che li aggiungo, li voglio aggiungere, ciascuno verrà aggiunto con un certo tempo, ma quando li estraggo, per dire adesso considero il prossimo evento, dovrò estrarre sempre quello che ha il tempo minore ed elaborarli in ordine di tempo. Quindi un simulatore è una macchina, software, che si basa su una lista di eventi, come dicevamo, una code prioritaria ordinata per tempo, estrae uno per volta un evento dalla lista, lo elabora e sulla base di questa elaborazione può generare nuovi eventi, uno, due, tanti, zero, nessuno, dipende. E li butta nella lista, sapendo che la lista ha al suo interno la logica per potergli dare ogni volta quello corretto, nell'ordine giusto. L'elaborazione dell'evento permette al simulatore di aggiornare lo stato del mondo, lo chiamo così, lo stato del mondo, insieme di variabili significative del mio modello, che sono variabili statiche, sono valori, una serie di valori, una serie di variabili, che se ne stanno ferme, e quando elaborano un evento, in conseguenza dell'elaborazione dell'evento, possono cambiare. L'evento, l'esempio era che lo stato del mondo era il numero di persone nei vari locali, nell'esempietto che facevamo prima. Quindi, un evento sarà un cambio di stanza, o un ingresso, o un'uscita, e quindi il sistema può leggere lo stato del mondo, perché per simulare i nuovi eventi, l'evento dell'uscita dal bagno, devo sapere quante persone ci sono in bagno. Quindi, il simulatore ha bisogno di conoscere qual è lo stato del mondo, il numero di persone attualmente in bagno, per poter prevedere l'uscita. E poi ha bisogno di aggiornare, quindi lo stato del mondo si può scrivere, aggiornare, modificarlo, perché tengo conto che la persona si è spostata da un luogo a un altro. Quindi, il simulatore fa questo. Man mano che elabora eventi, che trita eventi, tiene aggiornata l'informazione sull'effetto che hanno questi eventi su un modello del mondo. Modello molto ristretto, molto asciugato, in un insieme di variabili significative. Questa è una macchinetta che va avanti. Va avanti se io la alimento con una serie di eventi iniziali, in alcuni casi possono servire, e soprattutto può essere, deve essere tarabile, modificabile, sulla base di una serie di parametri che mi permettono di variare lo scenario. Ad esempio, dire che nel bagno ci sono due stalli in più e due stalli in meno. Come cambia? Che le persone, che le aule sono più o meno distanti, oppure sono più o meno capienti. non ha senso simulare uno scenario solo, oppure per senso per dire la situazione esiste è questa, ma poi devo, la simulazione serve proprio per poter tarare dei parametri e vedere o esplorare i valori diversi di alcune configurazioni del sistema, che qua chiamiamo semplicemente parametri dei scenari da simulare, per capire qual è l'impatto. Quindi io devo definire quali sono le variazioni possibili che ho in mente non ho un simulatore universale che simula tutto, ho un simulatore che è pensato per valutare queste possibili variazioni, questi possibili scenari alternativi. E quindi l'utente potrà variare questi due, tre, quattro parametri. E alla fine della simulazione, sì, potrei vedere l'elenco di tutti gli eventi, di tutte le persone simulate che sono entrate, uscite, si sono perse, eccetera, eccetera, ma alla fine non mi interessa avere il dettaglio di un comportamento che tra l'altro è simulato e quindi non realistico. Ma mi interessa sulla base di questa simulazione avere alcune misure chiave. Qual è stata l'occupazione massima, qual è stata l'occupazione minima, qual è stato il tempo di percorso, qual è stato il numero totale di persone, eccetera, eccetera. Alcuni valori sintetici che mi permettono di descrivere delle cifre di merito di fatto della bontà della soluzione rispetto a un'altra. Qui l'ho scritto al plurale, misure chiave, no? Se avessimo una misura sola avremmo una vista un pochino miope, diremmo conta una cosa sola e quindi ottimizziamo per quello. Però sapete purtroppo meglio di me che i problemi di ottimizzazione non sono mai singola variabile, non sono sempre l'ottimizzazione a molti criteri e devi tener conto contemporaneamente di più criteri contemporaneamente e devi farlo col buon senso, non hai la formuletta che dice che la soluzione A è migliore alla soluzione B. Hanno compromessi trade-off diversi e quindi io col simulatore posso calcolare vari tipi di impatto, l'impatto in certo senso di vari tipi di scenari e poi decidere quello che prendendomi la responsabilità della decisione quello che ritengo migliore. Quindi tecnicamente tutto si regge appunto su questo modello del mondo che rappresenta lo stato del sistema e sulla coda degli eventi che rappresenta le varie azioni al sistema. Tecnicamente che cos'è questa coda degli eventi? Vabbè, è una coda, una lista. E che cos'è un evento? Beh, un evento sarà un oggetto, per noi, un oggetto Java che contiene almeno tre campi. Il tempo, cioè in quale istante di tempo supponiamo che questo evento accada o poi il tempo può essere un oggetto di un local day time oppure semplicemente un numero intero che si incrementa. Dipende da che cosa stiamo modellando. Il secondo campo è il tipo di evento entra oppure esce oppure sale oppure sparisce eccetera eccetera e quindi ogni evento al tempo 9 succede l'evento di tipo 2. Questi tipi di eventi normalmente sono finiti. 2, 4, 5. Una casistica degli eventi, degli avvenimenti che possono cambiare lo stato del sistema per quanto lo stia simulando io. E poi la terza scatola è altro, altre informazioni che potrebbero servire. chi è entrato? È entrata una persona chi? Allora magari mi può servire per tracciare ovviamente un chi simulato non è una persona reale però mi permette di vedere seguire questa stessa persona nei suoi spostamenti ad esempio. Oppure è entrato in una stanza quale? Perché se poi devo aggiornare il conteggio del numero di persone nelle stanze devo sapere da quale stanza è transitato a quale altra. questa informazione non me la dice nel tempo e non me la dice il fatto che sia entrato ma devo in più dire dove è entrato o da dove è uscito. Quindi io avrò questa coda di questo tipo dove avrò sempre appunto un tempo che la fa da padrone perché è quello che mantiene l'ordinamento degli elementi avrò un tipo di evento che poi quello che mi dice è che cosa devo fare di questa informazione e poi ho dei dati collaterali che a volte possono dipendere dal tipo di evento ovviamente. Io parto di solito prima di iniziare la simulazione devo precaricare la coda degli eventi con alcuni eventi futuri dico vabbè allora supponiamo per le prossime due ore che arrivi una persona al minuto oppure stocasticamente una persona al minuto con una probabilità del 50%. Allora faccio un piccolo loop in cui genero gli eventi iniziali e li metto nella coda poi da lì faccio partire il simulatore perché se il simulatore parte e si trova la coda vuota dice non ho niente da fare ho già finito oppure potrei avere dei simulatori in cui gli eventi vengono generati è come se fosse un processo che periodicamente aggiunge nuove cose. però insomma di fatto dobbiamo avere un metodo per un'alimentazione esterna della coda perché altrimenti non ho nulla da fare. E poi il sistema va avanti e lavora gli eventi e la simulazione può terminare o quando la coda diventa vuota quindi ho calcolato ho simulato tutto ciò che c'era da simulare oppure quando ho raggiunto un certo tempo di limite massimo. Ho deciso di simulare per due giorni l'evento l'andamento del sistema dopo i due giorni mi fermo anche se nella coda dei eventi ci sarebbero ancora 40 da simulare però ho raggiunto un certo intervallo di tempo di osservazione. Quindi sono due condizioni di uscita semplici alternative. Allora come ci organizziamo diciamo così non ancora in classi ma quasi. quindi il simulatore qui abbiamo il nostro modello la classe model dei nostri programmi che sanno cosa devono fare a un certo punto magari sulla richiesta dell'utente deve simulare un certo comportamento. Allora io ho provato a ipotizzare una classe separata che ho chiamato simulatore e pensare che cosa deve fare questa classe quali metodi deve avere. allora sicuramente la classe simulatore deve gestire queste due strutture dati che sono la coda di eventi sicuro e quindi ho bisogno di una classe evento nella quale memorizzare queste informazioni. E questa coda degli eventi nel caso più semplice sarà semplicemente una priority queue una coda prioritaria di oggetti evento i quali siano comparabili quindi ordinabili sulla base del tempo non di altri parametri. e poi lo stato del mondo che nel caso più semplice è una serie di 4 o 5 variabili che ho dentro la classe simulatore o un array con dei valori o una mappa nei casi più complicati invece ho una classe a parte che descrive il sistema che descrive lo stato. Questo è uno stato quindi ha delle variabili non ha della logica non ha dei metodi ma ha delle variabili che fotografano cosa sta facendo il sistema quando non succede nulla di interessante non ha bisogno della storia di questo stato solamente dell'istantaneo e poi c'è tutta la parte di esecuzione quindi di fatto cosa succede che il main o il modello creerà un simulatore gli imposta i parametri ok allora guarda i parametri di simulazione sono o 20 stanze oppure ne ho 15 oppure la terza stanza a 100 posti la quarta stanza a 20 posti eccetera eccetera i dati iniziali li conosce diciamo così il modello perché sa che cosa l'utente vuole simulare e gli passa al simulatore questa configurazione iniziale poi a un certo punto devo dire al simulatore precarica la coda con degli eventi di partenza allora questi eventi li può creare il modello e passare al simulatore oppure può dire simulatore createli da solo con una certa regola dipende e il simulatore di fatto quello che fa è precarica la coda degli eventi con un certo insieme di eventi iniziali non ancora simulati poi prima o poi il modello dirà a questo punto sei pronto parti quindi ho chiamato run questo metodo in cui dico simulator.run simulatore vai e lui parte dall'istante di run comincia a simulare il primo evento che ha e si fermerà solamente quando avrà raggiunto il suo obiettivo cioè esaurito la lista degli eventi oppure raggiunto un certo tempo quindi alla fine del run il main potrà di nuovo chiedere al simulatore come è andata hai simulato tutto adesso mi dici come è andata mi dai il valore della misura xxx cioè quanto è stata l'occupazione massima quanto è stata l'occupazione minima quanto è stata la permanenza media quali sono state le aule più affollate e sono tutti i dati che il simulatore durante il run deve aver raccolto stata facendo in una serie di altre variabili o mappe o array diciamo così statistiche si fa un suo log una sua statistica interna di che cosa è successo e poi alla fine della simulazione oh perdono alla fine della simulazione può restituire questi valori questo è tendenzialmente l'interfaccia esterna di un simulatore come il simulatore viene visto dal modello lo creo cambio i parametri precarico gli eventi eseguo e interrogo come è andato a finire se simulo più scenari tipicamente ogni volta ripeto il ciclo perché cambio poi i parametri rifaccio il nuovo run eccetera internamente si basa su un forte loop in cui ad ogni iterazione di questo loop elabora un evento per volta allora quello che avevamo detto prima è un po' riassunto qua lo stato del mondo è un insieme di variabili che potrebbe anche essere delle liste potrebbe anche essere dei grafi quello che è che rappresentano la situazione corrente la regola di base è che il simulatore ha lo scopo di far evolvere lo stato del sistema e lo stato del sistema evolve solamente in corrisponenza degli eventi e lo stato del sistema può influenzare o vincolare il modo con cui gli eventi sono elaborati cioè un locale è già pieno e quindi il tentativo di ingresso non va a buon fine quindi quella persona non riesce ad entrare ad esempio quindi sulla base dello stato attuale l'effetto di un evento può essere diverso può essere influenzato ovviamente dentro lo stato del mondo devo anche avere delle variabili che mi permettano che contengono essenzialmente la misura di interesse cioè qual è l'output che mi interessa calcolare vabbè il simulatore questi sono i quattro metodi che abbiamo detto prima dire che non c'è nulla di aggiunti rispetto a quanto avevamo commentato prima l'unica differenza è che questo metodo di carica eventi l'out queue definisce il contenuto iniziale della coda al tempo zero cioè io che cosa posso dire al tempo zero di quali sono gli eventi che sicuramente ci saranno nel futuro quindi un precaricamento iniziale poi non è detto che non si possano aggiungere altri eventi più avanti e invece la funzione interna che cosa fa non ce l'ho non ce l'ho qua innanzitutto ho una cosa prioritaria chiedo alla cosa prioritaria dimmi qual è il prossimo evento è questo al tempo sette succede euno al tempo sette succede euno e quindi la funzione process event riceve l'evento e che ha come tempo sette e come tipo euno quindi questa funzione quasi sempre avrà un grosso bello switch che dice a seconda del tipo di evento se event type è persona entra fai certe cose se event type è persona esce fai certe cose se event type è stanza satura fai altre cose eccetera eccetera e quindi a seconda del tipo di evento dei valori della simulazione dei parametri della simulazione potrebbero anche essere delle strategie di simulazione decido che quando la stanza è troppo piena faccio uscire 10 persone a caso così estraggo una lotteria voi 10 andate a casa strana ma vediamo quali sono gli effetti quindi non è solamente un parametro in più o in meno potrebbe essere proprio un comportamento diverso del sistema che sto simulando allora mi arriva questo evento decido che cosa fare interrogo lo stato del sistema interrogo i valori associati con l'evento e poi decido decido di fare eventualmente un aggiornamento dello stato del mondo se qualcosa è cambiato decido eventualmente di aggiungere uno o più eventi nuovi chiaramente nel futuro sono delle previsioni che faccio sulla base di quello che è successo adesso eventualmente ovviamente posso anche aggiornare le misure di interesse se voglio sapere il numero di persone devo aggiornare se il massimo il minimo l'ho raggiunto il numero totale eccetera quindi aggiorno le variabili statistiche tutte queste cose qua io ho scritto opzionale perché poi dipende ovviamente dai casi che cosa devo fare e basta quindi io mi immagino questo bel ciclo while finché estraggo un nuovo elemento dalla coda con dentro questo ciclo while quindi while estrai dalla coda prioritaria dentro questo while c'è un grosso switch a seconda del tipo di evento e dentro ciascuno ramo dello switch dipende vado a considerare cosa devo fare leggo e aggiorno lo stato del mondo ed eventualmente aggiungo nuovi elementi alla coda questo è tutto diciamo così il nucleo del simulatore poi in questo schema generale ci sono le due differenze di cui dicevamo prima sulla gestione del tempo sulla gestione della randomicità dell'aleatorietà ci sono dei casi devo dire semplificati in cui gli eventi accadono solamente in corrispondenza di alcuni diciamo così istanti di tempo già noti a priori cioè se che ne so il numero di persone presenti sul posto di lavoro ad esempio in ogni giornata quindi ogni giorno ho un dato mercoledì martedì mercoledì non conta l'ora ok? allora però so esattamente quando ci sarà un dato nuovo un'informazione nuova se non voglio andare a vedere il singolo se entra 5 minuti prima 5 minuti dopo ma semplicemente il totale ho un dato ogni giorno allora in qualche modo gli eventi corrispondono principalmente al passaggio del tempo cioè io posso prendere l'asse dei tempi dividerlo in parti uguali e dire ok in ciascuno di questi intervalli succede un evento o quantomeno un evento esterno poi gli eventi generati internamente dalla reazione del sistema dipende possono avere anche istanti di tempo diversi quindi è più facile perché in qualche modo una distribuzione uniforme regolare degli eventi sono più facili da creare eccetera quando sono così tanto regolari a volte non serve neppure rappresentare il tempo esplicitamente ma basta semplicemente un numero intero che si incrementa se tutti gli eventi avvengono in periodi di tempo fissi che siano giorni che siano settimane che siano mesi mi basta avere il numero progressivo quindi sono un intero oppure il caso normale sono eventi tipo asincrono e quindi possono essere associati da un evento all'altro può passare un millisecondo come due giorni quindi non ho una a priori non posso conoscere la distribuzione di come saranno di quando avverranno gli eventi e allora mentre nel primo caso estrarre un evento nuovo significa semplicemente incrementare di uno il contatore del tempo qua devo cercare qual è l'istante di tempo più vicino nel futuro ma questo è il lavoro che fa la cosa prioritaria l'autorietà quindi se il modello che sto gestendo del mio mondo non è deterministico no se fosse deterministico è più facile perché sono sicuro che a parità di eventi iniziali a parità di parametri iniziali se ripeto la simulazione dieci volte ho esattamente i stessi risultati che però spesso è limitativo perché non ci permette di cogliere la complessità dei sistemi quando io ho un sistema complesso o faccio un modello complicato che cerca di tener conto di tutti gli aspetti del sistema oppure alcuni aspetti del sistema dico vabbè ci sono influenzano il risultato influenzano il comportamento del sistema però nel dettaglio non voglio non posso non so modellarlo e allora ci metto lì una variabile casuale che mi dice beh qui succederanno cose diverse magari sono perfettamente deterministiche ma io non voglio entrare nel dettaglio di calcolare perché succede so che succede una volta ogni tanto e quindi ci metto lì quella variabile che ogni tanto scatta e mi fa succedere un certo evento quindi molte volte l'aleatorietà fa parte del sistema reale ma a volte la usiamo semplicemente per riuscire a semplificarci un po' il lavoro e allora in questo caso dov'è questa aleatorietà aleatorietà beh può essere negli eventi iniziali come dicevamo prima simulo l'arrivo di persone con la distribuzione quassoniana oppure nella elaborazione degli eventi quindi nel mio switch dico ok se entra una persona una volta su dieci questa persona ha sbagliato aula e allora chiaramente l'elaborazione dell'evento è molto diversa perché se è entrato nell'aula giusta ci sta per un'ora se è sbagliato aula ci sta per un minuto quindi elaboro l'evento in modo diverso però è imprevedibile questo a priori non lo so lo decide il simulatore sul momento allora questa conversazione è entrata facciamo finta che abbia sbagliato e lo facciamo e questo lo facciamo per questa alternativa la gestiamo nel 5% dei casi nel 10% dei casi nel 40% dei casi un altro parametro che mi dà diciamo così la distribuzione statistica di queste anomalie e quindi non è sorprendente che ripetendo la simulazione più volte si possono ottenere dei risultati diversi ovviamente e allora vuol dire che il risultato di una simulazione da solo non è così decisivo come nell'altro caso perché se ripeto il risultato fa 8 bene e se la ripeto quanto fa? fa 6 allora è più giusto 8 è più giusto 6 ma nessuno dei due semplicemente ho un range di valori possibili in uscita a seconda di che cosa succede nel mio modello simulato quindi in qualche modo dovrò fare l'utilizzatore dovrà fare una serie di simulazioni ripetute andare a vedere i vari valori e poi prendere non so una media o comunque capire qual è il range all'interno del quale si muove se sono tutte tra 6 e 8 va bene ti dà un'idea se uno è 2 l'altro è 1000 l'altro 100.000 allora c'è qualcosa che non vale perché vuol dire che questo modello è molto sensibile rispetto ad alcuni parametri alleatori che lo fanno andare fuori scala ma una piccola variazione del valore di uscita è normale quindi di fatto la maggior parte dei sistemi alla fine di cadere in questa casistica ok proviamo a concretizzare un pochino pensando magari a un esempio di vogliamo simulare vogliamo domani metterci aprire un business metterci in affari e aprire un noleggio auto allora un noleggio auto ha un investimento devo comprare le auto da noleggiare ok quante ne compro compro una chiaramente più auto o più clienti posso soddisfare però ho anche fatto un investimento economico maggiore se poi questo investimento economico non è diciamo così coperto da un numero sufficiente di clienti che cosa faccio qual è la regola che mi dice che mi lega il numero di clienti che posso avere con il numero di auto che devo comprare io non lo so immagino che ce ne possano essere 50 ci sarà gente che ha scritto dei libri su questi problemi e fanno tanti modelli tante ipotesi e tanti calcoli magari sulla base di ipotesi operative diverse allora noi possiamo provare a esplorare questo problema dicendo supponiamo di avere un certo numero di auto e di avere un sistema in cui ogni tot minuti esempio ogni 10 minuti arrivi un nuovo cliente oh semplificatissimo cioè ogni ora del giorno con una cadenza di 10 minuti mi arriva un nuovo cliente non è realistico però un punto di partenza poi da lì lo si può complicare e allora cosa fa questo cliente arriva se ci sono auto disponibili ne prende una in affitto per una certa durata e poi dopo questa durata ovviamente me la riporterà se invece non ci sono auto se ne va via e per me è un cliente insoddisfatto la durata del noleggio è una funzione aleatoria può essere un noleggio di un'ora o di due o di tre quindi quest'auto viene riportata dopo un'ora riportata dopo due ore riportata dopo tre ore ciò che voglio fare è sulla base dei parametri di simulazione che sono il tasso di arrivo degli utenti e il tempo di noleggio sono dei parametri quelli valutare la mia strategia cioè quante auto devo acquistare sulla base del numero di clienti insoddisfatti alla fine della giornata lavorativa quindi devo esplorare questo sistemino proviamo mettiamo ipotizziamo che i clienti ne arrivino di più ne arrivino di meno ok con un cliente nei dieci minuti ce la faccio ma se tra le otto e le dieci del mattino arrivassero ogni cinque minuti ce la farei lo stesso o cosa del genere poi qua potrei essere molto una volta che ho un simulatore potrei farmi domande successive qual è il momento della giornata in cui ho tutte le auto fuori o il numero minimo di auto in casa allora se ho due righe di codice in più mi calcolo questo valore e alla fine lo situisco quindi posso via via a seconda delle domande che mi faccio arricchire il simulator in modo da renderlo in grado di darmi la risposta allora in questo caso cosa succede il tempo qual è è chiaramente un tempo discreto perché succede qualcosa solamente quando un'auto entra o un'auto esce cioè quando arriva un cliente per affittare una nuova auto oppure quando lo stesso cliente che aveva affittato un'auto in precedenza me la restituisce qui stiamo ipotizzando ad esempio che al mattino le auto siano tutte in garage quindi stiamo noleggiando solamente all'interno della giornata se ci fossero noleggi su più giorni allora chiaramente il modello si complica nessuno ci vieta di complicarlo ma partiamo da questo e quindi ho solo due tipi di eventi qualunque altra cosa possa succedere non cambia lo stato del mondo e lo stato del mondo che mi interessa qual è quante auto ho in totale che tra l'altro è una costante questa non cambia durante la simulazione a meno che non ipotizzi un altro tipo di evento tipo cliente distrugge l'auto con un incidente allora mi va a cambiare il numero di auto totale ma non c'è per ora e va bene così numero di auto disponibili in quel momento ancora in garage e questi sono i valori che servono per far funzionare il sistema per far funzionare il simulatore e poi ho un paio di altre variabili che dicono il numero di clienti totali che sono arrivati e il numero di clienti insoddisfatti a cui non sono riuscito ad affittare l'auto queste due sono variabili sono degli indicatori sono delle misure il cui valore non influenza il comportamento del modello ma ovviamente servirà come output finale quindi lo scritto in modo staccato il modello deve tener conto di queste quattro variabili di cui le prime due sono intrinseche e le ultime due invece sono semplicemente di osservazione e come possiamo impostare questo? allora cominciamo ovviamente solamente a avevo chiuso Eclipse tutta cosa a ragionare sulle classi principali la classi principale sono l'evento la coda il mondo e il simulatore non è detto che siano tutte classi diverse ma qui cerchiamo di mappare questa figurina che ci eravamo fatti prima sul nostro problema particolare questo no questo è l'altro slide questa figura qua cerchiamo di tradurlo in codice su questo problema del noleggio auto ok ovviamente iniziando in questi primi dieci minuti allora chiudiamo tutto e apriamo un nuovo progetto facciamo il java effects già subito dall'inizio ah cosa ho fatto stai buono noleggio auto cdp noleggio 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 controllo va bene creato il progetto java effects ma in realtà lavoriamo all'interno di un package modello e dentro il modello pensiamo a una classe simulatore ed una classe evento come minimo poi a volte se uno vuole quella classe evento la fa come classe la dichiara come classe interna simulatore così non è visibile dall'esterno ma su esercizi di questa dimensione non ci interessa allora cosa ti cosa tiene conto di cosa tiene conto la classe evento dicevamo sempre di almeno due informazioni più eventuali dati collaterali le due informazioni di base sono il tempo e il tipo di evento il tempo qua è continuo o è continuo o discreto ma il tempo può essere continuo o perlomeno approssimato al minuto in qualunque minuto adesso noi abbiamo un tasso d'arrivo che è uno di dieci minuti ma nulla ci vieta di modificare quel dato dicendo che ogni sette minuti qui non abbiamo degli istanti di tempo predefiniti in cui possono capitare gli eventi possono capitare lungo la giornata quindi è un tempo possiamo usare una variabile temporale vera e propria tipo un local time se ragioniamo all'interno di un giorno solo non ci interessa la data ci interessa solamente l'ora oppure potremo usare un numero intero per rappresentare i minuti della giornata dal minuto 0 1 2 3 al 60 e l'1 eccetera eccetera però tanto vale usare un tempo vero un local time per rappresentare il tempo e poi il tipo di evento tipo di evento che nel nostro simulatore per il momento sono solo due possibili la seconda variabile importante è il tipo di evento adesso sono solo due per cui se volessimo fare proprio i tirchi diremmo mettiamo una variabile boolean se è vero quando arriva il cliente è falso quando va via ma teniamoci sempre aperta la possibilità di 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 aggiungere degli altri quindi quello che potremmo creare è una enumerazione esempio una enumerazione sapete cosa è un enum no? cioè una classe che contiene una serie di costanti di fatto potremmo definirla magari anche direttamente dentro la classe evento normalmente si fa così le enum non sono mai scollegate dal resto ma sono legate a una classe public enum tipo evento che può essere cliente arriva e auto restituita è un modo per dire 0-1 cliente arriva è una costante intera che vale 0 però il compilatore Java ovviamente controlla che noi usiamo solo i dati corretti e quindi qui dentro potremmo avere una variabile locale oh pardon ho dimenticato il private davanti private local time tempo private tipo evento tipo tipo quindi questi sono i nostri non ci sono altri dati associati quindi sono tutti i nostri dati che ci interessano in questo momento non ci interessa chi è arrivato non ci interessa quale auto è arrivata se avessimo auto diverse auto economica auto di lusso allora mi interesserebbe anche sapere quale auto è stata presa in prestito e quindi quale auto ritornerà e quindi aggiungerei altri campi qua dentro per il momento come primo esercizio non ci basta non ci serve questo evento dicevamo che deve essere messo in una coda ordinata per tempo quindi sicuramente per poter essere inserito in una coda prioritaria deve implementare la comparable altrimenti in una priori tq se non implemento l'interfaccia comparable non viene inserito e quindi come minimo dovrò implementare il metodo compare to che mi dice sulla base di che cosa confrontare due eventi in questo caso la variabile tempo è un local time quindi potrò delegare alla compare to di local time se invece avessi usato un intero avrei dovuto fare la sottrazione io o il confronto degli interi quindi return this punto compare to other scusate no così ricorsiva this punto tempo punto compare to other punto tempo cioè non mi interessano gli altri valori per mettere in ordine gli eventi mi interessa solamente la marcatura temporale questo è il contenitore del mio evento che metterò nel simulatore l'ultima riga che scrivo all'interno del simulatore ovviamente la variabile principale sarà la coda degli eventi che sarà una priority queue di evento che sarà una priority queue di evento queue uguale new e questa è la struttura base su cui poi i metodi del simulatore lavoreranno ok allora su questo ci ritroviamo la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti